Dal palco alla platea per aiutare i ragazzi autistici. Il 16 febbraio alle 20.30 al Politeama lo Shanghai City Philharmonica Orchestra si esibirà nel concerto di beneficenza, note di stelle, in collaborazione con il Rotary Club Prato e Rotary Club Prato Filippo Lippi. Il ricavato della serata, contributo in Libra a partire da 20 euro, sarà devoluto alla Fondazione Santa Rita che da anni lavora con i ragazzi autistici e all'Associazione Cinese Generale Remium Italia che si occupa di protezione civile sul territorio pratese. Abbiamo deciso di organizzare insieme all'Alto Rotary, al Rotary Club Prato, questo evento perché per noi, per il Rotary, è molto importante la promozione della pace fra i popoli. Si aggiunge anche l'occasione di poter aiutare in qualche modo le famiglie dei ragazzi che soffrono di autismo. Sul palco del Politeama, insieme alla compagnia principale composta da 64 musicisti, si esibirà un gruppo di 33 giovani musicisti autistici dello Shanghai Peng Music Center, eccellenza nel campo della musicoterapia. Ringraziamo molto i club rotariani che a Prato abbiamo la fortuna di essere molto attivi e sensibili a tutte le tematiche sociali, in particolar modo a questo tema dell'autismo. È un piacere di poter portare i bambini autistici di Shanghai in Italia.